Con la deposizione di una corona dall'oro in una lapide posta al terzo piano di Palazzo dell'Aqui, la sede del municipio, anche Caltagerone ha celebrato la festa della Repubblica, dando vita a una breve cerimonia che oltre a fare registrare la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, ha coinvolto la cittadinanza in piazza municipio. Alla cerimonia in rappresentanza del commissario straordinario del comune di Caltagerone, Mario Larocca, è stato delegato dallo stesso il dirigente del settore lavori pubblici, Ignazio Alberghina. Oggi ripercorriamo il santo nevesimo anniversario della festa della Repubblica, in questo particolare momento a suddelica del commissario sono stato mandato qui a rappresentare il comune di Caltagerone, anche per tenere alti i principi e riportare ai cittadini di Caltagerone il messaggio del Presidente della Repubblica, che è pieno di significati in questo particolare momento di crisi della città di Caltagerone. Alla cerimonia di festività del 2 giugno hanno preso parte il comandante della Guardia di Finanza, il capitano Michele Solazzo, il comandante dei Carabinieri, il capitano Matteo Martellucci e il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Renzo Germanà, oltre ai rappresentanti delle altre forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, fra cui della Croce Rossa Italiana e dell'UNUCI, Salvo Nicastro, rappresentante dell'UNUCI. La storia della nostra nazione, della patria, per cui siamo presenti durante le classiche manifestazioni del 4 novembre, forze armate, il 25 aprile e oggi siamo qui per celebrare la festa della Repubblica.